Dal libro della Genesi La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre, un giovale leone e giuda. Dalla preda figlio mio sei tornato. Si è sdragliato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli.